E' arrivata l'ordinanza della discordia che solleverà un mare di polemiche e probabilmente aprirà la strada dello ricorso al TAR da parte dei rappresentanti dei mercatali di Avellino. Il sindaco Festa sospende il mercato bisettimanale con l'ordinanza numero 6 del 2020. Nell'atto c'è scritto che il mercato riprenderà solo in seguito al nuovo bando per la concessione degli stalli e alla riorganizzazione della nuova sede a Campo Genova. Stamattina, ancora prima che arrivasse l'ufficialità, nel piazzale degli Irpini l'umore degli ambulanti era un misto di rabbia e rassegnazione. L'effetto principale è di aver terrorizzato la città su un probabile mercato che interagisce e opera in modo abusivo dal 2017. Io non sono abusivo, non sono mai stato abusivo, sono stata sempre una persona precisa nei pagamenti, neanche un giorno di ritardo. Vuole distruggere 300 persone per mettere i pullman su un posto dove noi facciamo il mercato da 20 anni, dove abbiamo buttato il sangue per portare un po' di clientela, per farci conoscere. Una persona che si alza alle 5 di mattina è un fuorileggio. Quelli là che hanno sempre pagato come me, perché devo essere penalizzato su questa cosa? Solo questo chiedo. Ormai è fatta, siamo alla fine. Motivazioni quelle del sindaco che non convincono neanche molti frequentatori del mercato, una tradizione irrinunciabile. Il lavoro già è poco, quindi togliere altro lavoro a queste persone che stanno qui mi sembra una cosa su cui si deve pensare molto bene. Certamente non si sospende un mercato per questo, perché gli inati ambienti verranno puniti, è normale o no?